La squadra di Varese è una squadra che è abbastanza diversa rispetto a quella dell'anno scorso, sono rimasti a Saccota, non credo che chi gioca perché è un qualificato, De Nicolao è Polonana, Ede, ma credo sia un'altra squadra, anche a Bevela, l'ho vista giocare contro Milano, è diversa, molto semplicemente, quindi si sta cercando di lavorare contro quelli di quest'anno, naturalmente senza guardare quello che è stato preso l'anno scorso. Abbiamo a che fare con un'altra partita vera, tosta, ci stiamo lavorando per questo e naturalmente andremo lì per cercare di vincerla, sapendo di avere a che fare, ma contro una squadra dalle enormi potenzialità, come comunque siamo anche noi, noi siamo allenati molto bene in questi ultimi giorni e crediamo di farlo, di sfruttare tutte le nostre potenzialità. Eh, sarà un bello effetto perché dopo anni di allenamenti fatti con e contro di lui adesso lo troverò davanti in una partita, una partita vera, diciamo, ufficiale, però insomma, avere avuto a che fare con lui è stata una gran fortuna, si può dire, perché mi ha fatto crescere pure lui in un certo senso, è stato il mio primo hacker per due anni qui a Venezia, nei primi due anni Serie A, e fare giocare la prima partita contro lui farà un certo aspetto.